Ho scelto la scuola Marconi perché fin da piccola mi sono sempre interessata al mondo delle macchine, dei motori in generali e col passare degli anni si è intensificata sempre di più questa mia passione fino a che è diventato il mio percorso di studio. Da piccolina giocavo con le bambole, però comunque quando mio papà o mio fratello sistemavano la macchina, la moto e così, io ero sempre lì con loro a chiedere se potevo aiutare, cosa stavano facendo, per capire come funzionasse il mondo della meccanica. Sapendo che comunque era una scuola prevalentemente maschile, all'inizio avevo un po' di dubbi, però dai primi giorni mi sono subito trovata bene perché ti fanno sentire accolta senza giudicare. Dando il laboratorio comunque mi sento nel mio mondo possiamo dire perché alla fine mettiamo in pratica quello che in classe studiamo in teoria e è bello vedere qualcosa che funziona fatto da noi. Questa scuola comunque ci fornisce una preparazione sia a livello teorico ma anche a livello pratico e è un grande aiuto per il futuro, per il nostro lavoro e anche con la collaborazione con molte aziende sul territorio c'è un gran passo avanti. Ciao! Ciao!